Due tentativi di rapina e un tentativo di fuga. Tutti falliti. Nei giorni scorsi sono scattate le manette ai polsi per un uomo di 49 anni con precedenti di polizia, barisema residente a Riccione, arrestato dagli agenti della squadra mobile all'interno del policlinico di Bari. La presenza dell'uomo era stata segnalata a una guardia giurata in servizio all'interno dell'ospedale da un utente che era riuscito a sottrarsi al tentativo di rapina della propria auto. L'addetto alla vigilanza quindi ha riferito la notizia agli agenti del posto di polizia del nosocomio che si sono immediatamente posti alla ricerca del malfattore. Il 49enne così è stato rintracciato nei pressi del padiglione Chini mentre discuteva con un'anziana donna e con fare minaccioso cercava di impossessarsi delle chiavi della sua auto parcheggiata poco distante. Notato l'arrivo dei poliziotti l'uomo si è dato alla fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi all'interno di un reparto dell'ospedale. Al fine di sottrarsi alle manette ha anche colpito gli agenti cagionandoli lesioni giudicate guaribili in sei giorni. Dopo la convalida dell'arresto per lui è scattato l'obbligo di dimora nella città di residenza.